Tantissima gente oggi, mercoledì 7 marzo, si è recata dagli E per l'ultimo saluto a Marco Caffasso, scomparso nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo. Tanti cittadini e le associazioni di cui faceva parte con grande entusiasmo e passione. Marco Caffasso aveva solo 52 anni, a stroncarlo un male incurabile contro il quale aveva lottato con grande determinazione, senza mai arrendersi, senza perdere il sorriso che lo caratterizzava. La prologo di Aglie, il comitato festeggiamenti San Calundenzio, lo staff della Cannabese Cup, la dirigenza e i ragazzi della società sportiva dilettantistica Valle Sacra Aglie, tutti raccolti in uno stato d'animo di dolore e incredulità. Una cerimonia funebre, composta e silenziosa, con un fiume di gente che ha invaso Piazza Castello ed un solo pensiero comune. Ciao Marco resterà nei nostri cuori e riposa in pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.